Indica un punto di lancio, conduci tu il team Io ho tutto nero Avete i gas in avvicinamento, andate alla zona sicura Ok, eccoci Oh, 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 pazzo Pai out, out Contratti a sciaccio individuato Di nuovo Ignorato, contratto sciacallo individuato Fuoco autorizzato, sottopoli i bersagli Cassa di sconto individuata, va recuperata Contratto aggiornato, nuovo obiettivo identificato Abbiamo i soldi 7.899 999 Tch, 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 t Ah, pensavo, l'hai stato trovato, ok. Sì, sì. Arriva un lancio d'equipaggiamento. No, direi no. Sì, se io giocassi munizioni, se la lancio di sopra. Sì, stiamo a prendere la cassa, va. Corazza, qui. Ok, post. Ok, post. Ok, post. Ok, post. Sì, sì, va bene. Mi inganna, pazzesco. Vado qui. Perché credo che stanno fighttando? Vado qui. Stanno lì a carrellino questi, eh. Ricognizione. Siamo nella zona sicura. Oh, oh. Qui Jaguar 3-0. Confermato. Fattugliamento UAV iniziato. Qui c'è un bersaglio. Guarda, dietro c'ho i... C'ho le altre due, eh. Spera, 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 spera No, la final mi ha fatto sto pezzo di merda Ma com'è possibile? Non ci credo Ma umiliato questo, eh Ma umiliato questo, eh Umiliato Umiliato, umiliato Umiliato Fatto prendo pure un infarto, cazzo Stai iniziando un combattimento Preparati Umiliato, umiliato Ah Vinci qui e ti rimandiamo in prima linea Se perdi, sei fuori gioco Tocca a te, soldato Occupati di quello stronzo Bene, si ricomincia Mi sei uscito male Ti riportiamo a casa Il tuo team può pagare per farti rientrare Se hai fuori gioco I capito Ah Spera Aus Bina Tocca a te Tocca a te Tocca a te Obiettivo del contratto è marcato. Cazzo sta la cassa. Non c'è un interesse. Stazione medica segnalata. Non sapevo come giustarmi con quello. Finisco la cassa. Si, il manemico mi sta braccando. Occhi aperti. Inizioni aggiornati. Passare alla prossima area. Non c'è due, eh? Non c'è tante cose. No! Sono morto. Che c'è passi qua? Tutte le casse di scorta è trovata. Contattivo lavoro. Sotto? Cioè non posso andare il carrellino. Non c'è un'arma a istienza. Stazione medica segnalata. A posto. E eccoci qua. Sì, sì. Ok, c'è gente esattamente a pompieri. Approvvigionamento. Banti le armi nostre. Preso il camion. Che è sta uno alla cassa. Movimento. Ignorate. Vado qui. Veicolo nemico. Ignorate. Visto, la provo. Veicolo nemico. Ecco, questo è un avuto. Io l'ho presa. Va via. E loro stanno lì dentro. Però, lascio un po' le biastre. Vado qui. Riposizionamento. Qui c'è un bersaglio. Nemico marcato. Io non l'ho capita. Io non l'ho capita questa. Non l'ho capita proprio. Oh. C'è colpi cecchino? Corsi che no. C'è ragione. Certo. Eh, pochi. 90-50. C'è 50-90. Bersaglio marcato. Bravo. Ci può andare a luttare. Eh, no. Partono. UAPI nemico in volo. Contratto sciacallo individuato. La fa, è un bot. Ma il mantra non è luttato. Grosso calibro, qui. Grosso calibro, qui. UAPI nemico in volo. No, qua. Cazzo. Uno qua. A terra. A terra. Perfetto, fa un culo. Ah, c'è pure un bel po' di soldi, sti ragazzetti. Casse protezioni. Dai. No, non devi fare i furbi a questi ragazzi. Veicolo marcato. Eeeh, vai. Vai. Guido io. Ovviamente ci sparano. Vai a questa sinistra. Sotto tiro. Grazie. E' buon tanto Allora macchinino qua Veicolo nemico Allora E' protezione Protezione E' buon tanto E' buon tanto Non l'ho visto Non sento il tuo ass Basti Mi muovo Gassi in arrivo Zona sicura riposizionata Vado qui Riposizionamento Sto macchinino Ostile in discesa nell'aria Occhio in lato Guarda 39 metri Eccolo Da sopra Veicolo marcato Aspetto qua Guido io Gassi in arrivo Mi piedo qui Altaio non c'è gente Sono sceso io Vai 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 C'è un silenzio di tomba Ecco in volo E' questa era vicino Ah ok Pensavo la cassa di protezione Comunque c'era gente E' tipo qua Qui c'è un veicolo Riposizionamento In movimento Come non detto Annullare Eccolo Gassi in arrivo Zona sicura riposizionata Molto lontano Ovviamente Perso Di loro Movimento Ignorate Avete un lancio D'equipaggiamento In arrivo No no Impossibile Quello da prendere Bersaglio marcato Terra fatto In In movimento Ignorate Ho trovato una Bersaglio marcato Due Ok Vado da l'altra sinistra Sono stati qui Siamo nella zona sicura Ciao Granata partita Passi Contatto 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 Gravo Solo 10 Qua sotto Qua sotto 3 0 ho confermato arrivo alla nuova zona sicura attenzione uav rientro forzato per fare rifornimento e ci mettiamo dentro la casa che aveva avanti noi. vado qui va vicino qua vado qui bombardamento di precisione nemico al riparo 6 9 tira bombardamento sto coglione veicolo nemico qui lo tiro no non c'è senso gas in arrivo alla nuova zona sicura guavi nemico in volo passi fianco a noi eccola eh aperta Tutti puttana! Infrazione nemico! Al riparo! Cassi in arrivo! Tutti nella zona sicura! Veicolo nemico! Mina anticarro piazzata! No! Immobile! A posto! A posto! Cassi in arrivo! Nuova zona sicura contrassegnata! Mi va! A trovarlo! Cassi in arrivo! Questa qua dentro! Eccolo dentro! Mi è entrato qua può essere? Grosso calibro qui! Medio calibro qui! Granata lanciata! La scosso! Si torna! La scosso! Si torna! E non c'è un fantasma, zio E non c'è un fantasma